Réme! Passa! 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 Palla! Palla! Non mi riconosci? Mi ha parlato con Papattu. Lui è venuto a prenderti perché vuole stare un po' di tempo con te. Mi dici che cosa ti hanno detto di Zidime? Che stai in prigione. E basta. A Bari, domani a mezzogiorno. Questa non mi serve, mi sono portato mio figlio. Un bambino è meglio di una pistola. Ma ti sei piaciuta dosso un'altra volta? Questa è acqua. Cos'è quella invece? Se quella è acqua, questa è farina. La persona che devi trovare. Che ti ha fatto? Ci ha fatto andare in galera a me, a Vito e a Toto. No. Che? Dammi una mano, dai. Ci buttiamo insieme. Uno. Due. Tre. Non so quanti giorni ci ha rubato questo. Un altro di giorni allora? Diciamolo sì. Che. Che. Grazie a tutti.